Augusta Puscher spregiudicato spazio a droga mentre detenuto domiciliare, beccato dai carabinieri. Quando si dice che il lupo perde il pelo ma non il vizio, il detto è riferito a un Puscher, la cui detenzione domiciliare non è bastata a farlo desistere dal delinquere, così un cittadino megarese è stato arrestato e condotto nuovamente in carcere, dal quale era uscito solo da pochi mesi. Simone Verde, pregiudicato agustano di 31 anni, era stato arrestato nel gennaio 2019 per scontare in carcere un cumulo di pene concorrenti ammontanti a circa due anni e mezzo, conseguente ad alcuni reati attinenti agli stupefacenti e furti in abitazione commessi in passato. Già dal mese di luglio 2020 si trovava però in detenzione domiciliare perché il Tribunale di Sorveglianza di Catania, su sua estanza valutati i presupposti, gli aveva concesso tale beneficio imponendogli di rispettare una serie di tassative prescrizioni. Il 27 dicembre scorso tuttavia i carabinieri dell'aliquota Rademobile della compagnia carabiniera di Augusta nel corso di un controllo lo hanno trovato in possesso di cinque dosi di cocaina e per tale ragione lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Malgrado la denuncia, l'uomo sul momento ha proseguito la detenzione domiciliare presso la sua abitazione ma la segnalazione dei carabinieri è stata inoltrata dalla Procura di Siracusa al Tribunale di Sorveglianza di Catania che qualche giorno fa, constatato che il soggetto aveva ripreso a delinquere, ha disposto alla revoca del beneficio già concesso. I carabinieri hanno quindi tratto in arresto il verde traducendolo nuovamente in carcere presso la casa circondaniale di Catania a Piazza Lanza, così come disposto dall'autorità giudiziaria.